Al quartiere Trieste sono partiti i lavori di demolizione di un edificio in via Virgilio, cui seguiranno i lavori di immediata ricostruzione di un nuovo edificio che conterrà 19 alloggi. Abbiamo i tempi che vengono dettati, insomma, al PNRR. Diciamo 18 mesi dovremmo riuscire a realizzare l'edificio. Quindi entro 18 mesi saranno praticamente abitabili? Eh sì, la prima pietra, se così vogliamo dire, dovremmo metterla, fra un paio di mesi dovremmo iniziare. E quindi fra 18 mesi consegneremo gli alloggi. L'edificio era ormai da tempo abbandonato a se stesso e questo intervento creerà le condizioni per una nuova vita. L'intervento prevede una spesa economica importante per entrambe le fasi di demolizione, che avverrà con la tecnica della demolizione controllata mediante pinsatura, e ricostruzione poi per un importo di 4 milioni e 700 mila euro. A fine lavori le unità abitative diventeranno unità immobiliari per residenza sociale e a servizio degli studenti. Costruiremo circa 19 appartamenti, di cui 13 a Canone Calmerato e 6 per lo studentato, proprio a due passi poi dall'università. Per quanto riguarda gli studenti, ogni alloggio di circa 60 metri quadri avranno la cucina e due posti letto. Quindi in totale avremo 12 posti letto, anche dei servizi, servizio lavanderia, sala studio e il servizio di portierato. Quindi io credo che per gli studenti sia una cosa importante. Oltre i 13 appartamenti che daremo a Canone Calmerato per 13 famiglie che ospiteremo all'interno dell'edificio. Anche lì sono appartamenti di circa 60 metri quadri.